allora ragazzi non è che cinque giorni fa eravamo dei fenomeni e ora siamo diventati degli scarponi non bisogna essere disfattisti ci mancherebbe quando l'Inter gioca bene è giusto fargli i complimenti quando l'Inter gioca male è giusto secondo me analizzare perché bisogna innanzitutto capito di sottolineare una differenza analizzare e criticare io però ti voglio dire una cosa se te a San Siro in casa davanti a quel pubblico fantastico che canta 90 minuti che non mugugna più più come anni fa perché San Siro mugugnava al primo passaggio sbagliato sentivi lo sentivi anche dalla tv io sono stato abbonato a San Siro l'anno di Ronaldo era abbonato l'anno del fenomeno ma se te col Sassuolo e Bologna prendi un punto te non è che non vinci lo scudetto te l'unica cosa che puoi vincere è il prosciutto alla festa dell'unità e questa l'unica cosa che puoi vincere se prendi un punto tra Sassuolo e Bologna di cosa vogliamo ragionare bisogna secondo me anche capire una cosa ragazzi che i derby ci fa godere a tutti la vittoria nel derby ma ci mancherebbe io sono il primo anche un fratello milanista mettiti nei miei panni io godo il triplo quando l'inter vince un derby non solo perché mio fratello è milanista ma il derby vale tre punti non sono sei punti sono tre punti capite ti voglio dire sono comunque tre punti non sono sei punti ora al ritorno delle nazionali c'è Torino c'è Roma e c'è Atalanta attenzione perché l'inter secondo me aveva anche un calendario abbastanza facile avevamo un calendario facile abbiamo buttato all'ortiche già cinque punti secondo me no secondo me le abbiamo già portate all'ortiche i zaghi continuo a dirti che è un allenatore che per un inter disastrata senza un euro indebitata fino a quassù è un allenatore che va bene l'inter non può permettersi altro che in zaghi perché l'anno scorso lo voleva mandare via anche il portiere di casa sua quello che gli apre il cancello quando suona però non c'erano soldi non ce lo ricordiamo più questo che doveva essere desonerato 40 volte il niter non l'ha mandato via perché non c'erano soldi in una società normale in zaghi al niter non c'era più poi ha fatto delle cose buone ma ci mancherebbe ma continuo a dirti che è un allenatore che a me non piace perché le persone che non escono mai dalla zona comfort come lui a me non piacciono in generale a maggior ragione l'allenatore del niter perché simone zaghi oltre il 352 non sa che cosa possa esistere lui non sa lui lui ha questo 352 in testa indipendentemente dal riempimento degli spazi come ho detto la settimana scorsa perché questo gli va riconosciuto ma in zaghi è un allenatore che oltre 352 non sa cosa possa esistere per lui esiste solo 352 e non esce mai dalla zona comfort non rischia mai allora io ti dico un allenatore giovane come lui se non esce mai dalla zona comfort se non rischia mai se non studia se non prova come cazzo fa a crescere un allenatore non crescerà mai lui come allenatore perché fa sempre le stesse e identiche cose e la roba preoccupante che lui non impara mai dagli errori che fa perché ieri lui lui fa degli errori che faceva il primo anno che ha fatto il secondo e che sta rifacendo il terzo il cambio turam sanchez e dal ritiro di patentino secondo me ma non perché io stravedo apertura il cambio sanchez turam e dal ritiro di patentino te lo dice giuse dieci fidati e dar prendergli patentino e da strapparglielo che poi mette sanchez che fa tutte quelle pirouette che che fa salti mortali sembra uno di circo perde palle sanguinolente e non conviccia nulla e tra l'altro gioca 20 metri più indietro di turam te mi devi dire che senso ha cambiare sanchez con turam posso capire che turam era stanco che comunque era a rischio contrattura tutto quello che ti pare ma lasciali in campo tutti e tre metti sanchez dietro e lascia turam e lautaro davanti metti lautaro nel mezzo e metti sanchez e turam punto esterne ma ma inventati qualche cosa non esce mai dalla zona concorda mai e lui non mi lui e secondo me in zaghi ha già raggiunto il tetto massimo di quello che può fare perché lui non cresce ma se te non sbagli no a parte lui non impara dagli errori ma per crescere devi sbagliare devi rischiare devi studiare devi sperimentare cosa che quest'allenatore non fa mai poi ragazzi il calcio è un giochino semplice le altre squadre e ti studiano secondo tempo io vedevo i giocatori del bologna che prima che l'inter tirasse la palla in una zona del campo i giocatori del bologna già si muovevano prima perché sapevano già dove andava la palla sapevano già cosa faceva il braccetto dell'inter sapeva già il difensore dove metteva la palla sapevano tutti ci studiano siamo prevedibili con questo schema lo apisci o no il champions league perché l'inter fa meglio il champions league perché in champions league ti lasciano gli spazi e noi andiamo noi acceleratore a paletta mille all'ora in champions league facciamo delle gran belle figure vedi benfica in italia quando trovi le squadre chiuse no se non vai a mille noi facciamo le figure di merda ragazzi parliamoci chiaro perché in italia quando trovi queste difese toste devi essere un buon stratega ti devi inventare qualcosa tra l'altro noi non abbiamo nemmeno gente assata l'uomo a maggior ragione se ti piazzano i pullman devi entrare dai finestrini ma con inzaghi è impossibile è quasi impossibile perché se non gli passi sopra a livello atletico andando a mille all'ora questa squadra non ce la fa perché purtroppo la metodologia di gioco è quella lì indipendentemente dal fatto che davanti hanno preso due pensionati di 40 anni perché non ci sono soldi io questo ce lo metto in conto non ti preoccupare non ho paura a dirlo davanti ci sono due di 40 anni due pensionati di 40 anni perché non hanno avuto la forza per prendere un attaccante ma hanno preso Pavard giuse grazie al kaise che hai preso Pavard e chi è andato via poi tra l'altro ma davanti hanno preso due pensionati io posso capire le scelte siano quelle che sono ma un buon chef cucina con gli ingredienti che ha quindi questo stesso schema ormai ti studiano ti conoscano all'estero in champions ti lasciano spazi in italia gli spazi non te li lasciano ecco perché le dodici sconfitte il campionato le dodici sconfitte il campionato dell'anno scorso provengono anche dalla mancanza di idee perché Inzadi non è uno stratega mette bene la squadra in campo spesso e volentieri ma a livello di strategia siamo a zero dodici sconfitte in campionato non arrivano per caso e poi io ti voglio dire un'altra cosa c'è la noglu c'è la noglu con c'è la noglu aumenti il giro aumenti la velocità del giro di palla dai meno riferimenti agli avversari ovviamente parlo del centro campo avversario quando viene giù a farti pressing ma te con c'è la noglu non hai il ritmo gara non hai la gestione del ritmo gara come avevi con Brozovic perché Brozovic ti addormentava la partita questi inter qui se si addormenta prende gol perché non c'è uno come Brozovic al centro campo non c'è uno e ti nasconde la palla c'è la noglu è un ottimo giocatore Brozovic è un ottimo giocatore ma con c'è la noglu puoi giocare in un modo e con Brozovic puoi giocare in un altro io ad oggi ti dico senza alcun problema stiamo parlando di due grandi giocatori che a me se mi dici chi vuoi titolare nel ruolo di play io ti dico Brozovic tutta la vita perché la doppia la doppia fase di Brozovic il ritmo gara che impone Brozovic alla squadra c'è la noglu non lo sa fare vedi anche la fase difensiva si è bravo ha imparato ma a livello difensivo come schermatura dei passaggi c'è la noglu non sarà mai Brozovic mai quindi siamo le solite o vai a mille allora oppure risulti no un'altra cosa anche anche quelli stanno in panchina bisogna farli giocare titolari perché si eh ma giocano sempre giuse è diverso è diverso ieri lui riparte con la stessa formazione un'altra volta ci può anche stare ma è diverso quelli in panchina di tanto vogliono partire titolari consigli emotivi capito e lui che tu li metta sempre poi esce c'entra avanti e c'entra avanti esce l'esterno entra l'esterno esce in mediano entra in mediano mai qualcosa di nuovo siamo prevedibili come un ruttino di un bambino di un anno dopo pranzo dopo aver fatto la poppata della mamma e sono le stesse cose dell'anno scorso e gli stessi errori dell'anno scorso ti ripeto non c'è da essere non bisogna essere disfattisti il campionato è appena iniziato non eravamo dei fenomeni contro il Benfica non siamo degli scarponi ora però così ragazzi non ci siamo così non va bene te lo ripeto non esiste prendere un punto in casa a San Siro tra Bologna e Sassuolo ciao a San Siro